E allora sono contento di avere qui con noi Giorgia Meloni per l'intervista, era un po' che non venire al studio, si accomodi, mi fa piacere, in presenza, si accomodi pure, ci arriverò, nonostante i tacchi. Buonasera Paolo. Come va? Un po' stanca? Perché in campagna elettorale si trotta. Si trotta sempre, però in campagna elettorale si trotta anche di più. Particolarmente, sì. Senta, ha visto il servizio, lei è una realtà che conosce. È molto bene. Molto bene, ho visto che il macellaro è un suo amico. No, però dice la verità, io frequento comunque parecchio i mercati rionali perché penso che sia il posto giusto dove sentire davvero gli umori della gente. Gli altri guardano i mercati finanziari, secondo me ti dicono molto di più e sono molto più importanti i mercati rionali. Chi vince in periferia alle elezioni? Io spero che vinca il centrodestra e credo che il centrodestra meriti di vincere perché abbiamo conosciuto già le altre esperienze. Virginia Raggi cinque anni fa fece tutta la campagna elettorale nelle periferie, vinse soprattutto nelle periferie, praticamente ovunque. E dopo cinque anni la situazione è peggiore di prima. La sinistra sappiamo che ha sempre scaricato sui quartieri più periferici i suoi deliri ideologici perché ce lo siamo detto tante volte. Bella l'immigrazione è irregolare ma poi il centro per l'accoglianza degli immigrati lo aprono a Torsapienza, mica lo aprono al centro di Roma dove abitano loro. Ovviamente è una sinistra che proprio non vuole conoscere quella realtà, non le interessa e scarica su queste persone che non possono difendersi il degrado, l'insicurezza che sono figlie di questi deliri. E poi c'è il centrodestra, non è che noi andiamo in periferia durante la campagna elettorale, noi abbiamo le sedi aperte in periferia. I circoli di Fratelli d'Italia li troverà soprattutto nelle periferie. E quindi credo che di risposte da dare su quei territori ne abbiamo moltissime, anche perché siamo quelli che hanno avuto il coraggio di andare in quelle periferie quando tutti gli altri davano loro addosso. Lei ricorderà appunto che a Roma ad esempio ci sono state una serie di rivolte, cioè cittadini che sono scesi in piazza per manifestare magari appunto contro l'ennesimo centro per l'accoglianza degli immigrati. Ricordo Torsapienza, fu un caso eclatante e la stampa perbenista a dire razzisti, fascisti. Poi andavi a parlare con queste persone e ti rendevi conto di una realtà di abbandono totale, per cui c'è gente che nella capitale d'Italia nel terzo millennio deve avere il terrore di scendere a gettare l'immondizia, perché può succedere di tutto. E allora ci sono cittadini di serie B che sono stati derisi, abbandonati e insultati. Noi c'eravamo, poi sono loro che devono chiaramente valutare il lavoro che ciascuno di noi ha fatto. Ho visto che ha riempito bene le piazze da Torino a Milano a Roma, ho sentito che la acclamavano come leader del centro-destra, ho sentito male, io non c'ero. Allora guardi Paolo, io ho fatto tutta la campagna, questa è Piazza del Popolo, abbiamo riempito Piazza del Popolo a Roma, Piazza del Duomo a Milano, che per noi era una novità, Piazza Castello a Torino, abbiamo riempito diverse piazze di tutto il territorio nazionale, c'è stato un grande entusiasmo, tanta voglia dei cittadini venirci ad ascoltare e credo che questo sia un bel segnale, credo che, io l'ho detto in queste piazze, no? Poi se alla fine c'è tanta gente che viene in piazza a sventolare una bandiera, forse anche perché può dire, sono fiero di essere di Fratelli d'Italia, questa è una cosa che mi riempie il cuore. Io penso che questo sia il risultato del fatto che noi non abbiamo avuto paura di niente, cioè a noi hanno attaccato addosso qualsiasi genere di etichetta, Paolo, io ogni giorno apro il giornale e leggo di tutto contro di noi, razzisti, omofobi, xenofobi, siamo no-vax, negazionisti, terrapiattici, di tutto. E ora poi su no-vax chiediamo. E io oggettivamente non ho mai avuto paura, cioè non sono una persona che si fa mettere il bavaglio, se una cosa non mi torna, non mi convince, io lo dico, perché credo che questa sia la responsabilità di una politica che fa il suo lavoro, se la politica migratoria del governo in una fase come questa è delirante, cioè è delirante che mentre la gente, intanto milioni di italiani scivolano verso la povertà, gli italiani non possono praticamente più neanche prendere il caffè se non hanno il Green Pass e poi ti entrano 80 mila immigrati clandestini da gennaio che si rifiutano di fare il tampone e il vaccino e nessuno dice niente. E io lo dico, mi possono dare della razzista quanto vogliono, perché razzista non sono, ma non sono manco cretina. Questa storia è una che non posso ovviamente non affrontare del responsabile social della Lega Luca Morisi che a pochi giorni dal voto è arrivata l'inchiesta, poi tra l'altro la procuratrice ha detto ma noi francamente robetta insomma ci interessa, che opinione si è fatta di questa cosa? Mi sono fatta l'opinione che certe cose in Italia devono fare riflettere parecchio, tanto mi sono fatta l'opinione che non mi dovevo fare adesso del doppio pesismo che usa certa sinistra sugli affari personali degli altri, perché quando riguarda qualcuno dei loro dicono fatto personale, quando riguarda qualcuno diciamo di centrodestra o vicino al centrodestra invece diventa un fatto che te lo ritrovi tutti i giorni. Di rilevanza politica diciamo. Però capisce, sul caso io non giudico le scelte personali, ma qua stiamo parlando intanto di una persona che non ha incarichi istituzionali o politici, collaboratore di, in secondo luogo parliamo di una vicenda che ad oggi non ha profili giudiziari rilevanti e quindi io vorrei capire perché sono tre giorni che tutti parlano solo di questo. Oltretutto, scusi, questi sono fatti risalenti al 14 di agosto, un mese e mezzo fa, si vota fra una settimana, è normale questo tempismo nel far uscire queste notizie. Allora vede, perché mi preoccupa? Mi preoccupa perché chiaramente l'idea che queste cose siano un po' organizzate mi pare che la possiamo condividere e perché mi pare che invece non ci si occupi di cose molto più serie. Guardavo ieri un'altra trasmissione televisiva, ma io l'ho denunciato tante volte, la vicenda per esempio, secondo la quale il commissario Arcuri in periodo di pandemia, mentre la gente praticamente moriva nel periodo peggiore della pandemia, ha comprato 100 milioni di mascherine al prezzo di 1,05 euro dai cinesi, per il tramite di una società olandese con un solo dipendente, mascherine oltretutto per il 50% farlocche, quindi 100 milioni di euro degli italiani sono stati spesi per importare, non si sa bene da chi, delle mascherine che non erano buone. Posso chiedere dov'è la magistratura? Perché a me pare veramente che in questa nazione cose che non hanno una rilevanza la assumano perché bisogna colpire qualcuno, è cose che hanno una rilevanza, nessuno le racconti perché bisogna tutelare qualcuno e questo non è stato di diritto e chiaramente comincia a diventare preoccupante. Senta, il nostro William Valentini in questo clip ci fa vedere il caso della poliziotta Novax che ha parlato dal palco della manifestazione di Roma e noi l'abbiamo incontrata. Prego. Nunzia Alessandra Schilleron, dirigente della polizia di Stato che è qui con noi. Sentiamola. Io oggi sono qui per dire che sì, è vero, esiste un virus pericolosissimo e potentissimo che si chiama Paura. Salve, sono giusto una domanda, ma lei ci risalirebbe su quel palco? Ma chi ci dice che noi forze dell'ordine siamo chiamate a far rispettare le leggi? Io dico che è assolutamente vero, peccato che l'impasto italiano sia assolutamente illegittimo. La Murgese ha detto che c'è la possibilità di una sospensione. Non parla. Cosa accadrà se molti milioni di italiani dovessero decidere di dire no alla tessera verde? Che cosa farete? Ma le sembra giusto per il ruolo che rappresenta la poliziotta? Invitare alla disobbedienza civile? Ho citato Gandhi. La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico o corrotto. Continuerà la sua battaglia anche se le dovessero levare la divisa? Buon giorno. Ma chi indossa una divisa può salire su un palco e dire queste cose o non dirle? Io penso che tutti siano prima di tutto dei cittadini. In uno Stato democratico un cittadino può dire quello che pensa, di come lo Stato porta avanti i suoi provvedimenti. E penso sinceramente, Paolo, che il clima che si respira in queste settimane attorno a queste vicende sia un po' spaventoso. Cioè il fatto che le persone non possano dire che non sono d'accordo. Il fatto che su una materia così delicata, lo dico da persona vaccinata, da persona favorevole alla campagna di vaccinazione, però su una materia così delicata come la salute delle persone, lo Stato abbia deciso di procedere così. Prima hanno fatto un casino. Non si è capito niente. Siamo partiti con i contratti con le case farmaceutiche dell'Unione Europea che erano stati secretati. Non si poteva sapere cosa ci fosse scritto dentro. Poi quando si è scoperto una parte di quello che c'era scritto dentro, c'era scritto che le case farmaceutiche, noi davamo miliardi di euro e loro dovevano fare del loro meglio. Poi AstraZeneca, prima fino ai 55 anni, poi sopra i 60 anni. Poi è arrivato il tema del mix vaccinale, ti dicevano fa male, non fa male, uno fa bene, l'altro fa male. Oggi ti dicono terza dose, solo Pfizer e Moderna e quindi tutti quelli che hanno avuto AstraZeneca dicono e quindi a noi che ci avete iniettato. Cioè prima è stata fatta tutta questa confusione, l'ultima qual è? Perché questo non lo nota nessuno. L'Italia è l'unico paese che ha portato il Green Pass da 9 a 12 mesi. Quindi una persona è automaticamente portata a ritenere che la copertura del vaccino sia a 12 mesi. Ma se lei va sul sito dell'EMA o dell'AIFA, scoprirà che nessuno sa dirle esattamente quale sia la copertura dei vaccini e che parlano di terza dose perché si ritiene che sia tra i 4 e i 6 mesi. Quindi lei capisce, c'è una confusione totale, non si capisce niente. E quando la gente ha cominciato a fare delle domande dicendo scusate ma si può capire meglio. Green Pass, ti obbligo a fare il vaccino senza assumermi la responsabilità di obbligarti a fare il vaccino. E questo secondo me è un modo sbagliato di procedere. Paolo, noi siamo l'unica... In modo giusto qual è? Adesso glielo dico. Noi siamo, parto da qui, noi siamo l'unica nazione al mondo l'unica nazione al mondo che applica il Green Pass. Così. E quindi, come alzò, che cosa penso io alla fine di questa vicenda? Penso che il Green Pass sia una grande arma di distrazione. Siccome è un tema molto divisivo sul quale la gente si accapiglia, no? Chi è favorevole, chi è contrario. Anche lei ha intervistato due persone. Alla fine serve a concentrare tutta l'attenzione lì. Noi sono due mesi che parliamo solo di Green Pass. E a non far vedere che il governo non ha fatto una serie di cose che andavano fatte. Il potenziamento dei mezzi pubblici era la prima. Scuole non è stato fatto assolutamente niente. Cioè noi abbiamo speso altri 6 milioni di banche e rotelle. Fratelli d'Italia aveva proposto, abbiamo fatto per esempio in alcune nostre regioni, l'aerazione meccanica controllata. Cioè secondo moltissimi esperti, se tu metti il ricircolo meccanico dell'aria abbatti la possibilità di contagio. Ma non ci si poteva concentrare su queste cose. Perché alla fine lo dico? Quello che diceva la signora che dice io sono favorevole al Green Pass. Che cosa dice lei tra le righe? Dico sono favorevole al Green Pass per quello che abbiamo passato. Perché gli italiani sono stati convinti che il Green Pass garantisce che tu non richiuderai. Io temo che questo non sia necessariamente vero. Cioè noi abbiamo, nonostante il Green Pass, i dati di vaccino, abbiamo già 200 classi in DAD. Perché purtroppo, siccome il vaccino è efficace per la terapia intensiva, è efficace contro la... Ma sul contagio garanzie non ne dà. Il rischio che si torni alle chiusure perché non è stato fatto tutto il resto, c'è, si può chiedere perché non è stato fatto tutto il resto. Ho collegato da Milano la nostra Sara Scorpati e chiedo con dei cittadini che sono favorevoli a questi provvedimenti. Prego Sara, velocemente per favore. Sì Paolo, buonasera. Sono qui con commercianti di botteghe storiche di Milano, tutti favorevoli al Green Pass. Ti faccio parlare subito con il signor Salvatore. Perché il Green Pass sì? Buonasera Paolo. Il Green Pass sì perché le persone vaccinate sono tutelate dall'aspetto della salute e preservano chiaramente un aspetto di sicurezza anche quando entrano nel negozio. Cioè io lo vedo con le mie clienti. dal momento in cui non c'erano i vaccini, non c'era il Green Pass, la gente aveva paura, non veniva, non entrava, insomma era timorosa. Adesso con i vaccini, con il Green Pass la gente è più sicura. Ormai sono vaccinato. Sentiamo qualche un altro. Chiaro, sentiamo un altro. C'è stata una ripresa nella vostra attività, diceva il signor Augusto. Sì, certo, c'è stata una ripresa. Io sono favorevole al Green Pass perché è l'unica maniera per ritornare come eravamo prima. Il signor Francesco invece, proprietario di un bar, ha vissuto appunto appieno le chiusure del lockdown e ci diceva appunto che il Green Pass serve perché è l'unico sistema per poter tenere aperto. Diversamente avremmo dovuto chiudere ancora e credo che abbiamo sofferto abbastanza. Grazie, grazie. Grazie molte agli ospiti e grazie a Sara Scorpati. Meloni. È quello che dicevo prima, non dipende dal Green Pass, dipende dai vaccini. Voglio dire, noi le riaperture con i vaccini le avremmo garantite tranquillamente anche senza Green Pass. Per cui il Green Pass è un surplus che però piccola un pezzo di stato di diritto. Ok, ma a quelli che non vogliono farlo, lei cosa si sente dire? Lasci perdere quelli che hanno patologie, ovviamente, quelli non c'è neanche a discutere. Ma a quelli che non lo vogliono fare in generale, no? Perché lei dice c'è un'aggressione verso coloro che pongono i problemi. C'è un'aggressione anche da parte di coloro che dicono... Perché gli animi sono stati volutamente esacerbati, per come la vedo io. Cioè è anche una reazione a un certo tipo di aggressività. Cioè quando la politica mi dice se uno non si vuole vaccinare, l'ha detto l'assessore della Regione Lazio, alla sanità, se uno non si vaccina, io non gli pago la terapia intensiva. Lei capisce? Questa è una revisione di tutto il nostro sistema sanitario. Perché allora pure a uno che fuma, a un obeso, a chiunque sia responsabile, almeno per parte, diciamo così, a una degenerazione della sua salute, noi non dovremmo più garantire l'assistenza sanitaria. vogliamo aprire questo dibattito? Apriamolo, però capisce che altrimenti è una frase molto forte da dire ti faccio morire perché non eri convinto. Allora questa roba qui alla fine esacerba gli animi. Io ho sempre detto i vaccini sono utilissimi. Ecco, ho anche detto che non sono d'accordo sulla vaccinazione dei piccoli, dei piccoli, perché io credo... Vedete, a noi il vaccino è diventato un'ideologia, no? Invece le cose... Il vaccino è uno strumento, devi valutare il rapporto rischio-beneficio. Cioè, mia madre, immunodepressa, 67 anni, lei la conosce, l'ho fatta vaccinare subito, immediatamente, è una persona molto a rischio. Mia figlia a Ginevra ha 5 anni su vaccini che hanno un'autorizzazione condizionata, ci penso, ma non perché io abbia niente contro il vaccino, ma mia figlia ha fatto più delle vaccinazioni che erano obbligatorie. Però la stessa scienza, gli stessi medici... Quindi posso avere un dubbio e ce l'ho sui giovanissimi, perché il rapporto rischio-beneficio rischia di essere sbilanciato, ma sugli altri... Guardi... Non mi sento di dire che non dovrebbero, anzi, facciamolo, però gli italiani si stavano vaccinando tranquillamente. Questo che mi manda i matti. Guardi, la nostra Giulia Pezzolesi è andata in Liguria, ha incontrato Beppe Grillo, che ci ha parlato anche di lei, i Meloni, senta un po' cosa di... Entusiasmo. La Meloni critica la Raggi, e Grillo risponde che... E dovete appuntarvi. È bellissimo. Almeno qualcosa sulle elezioni a Roma, qualcosa sulle elezioni a Roma. Sempre un altro buonamento. Dai, vabbè, ho capito, mi fai sborsare sempre i soldi. Draghi? Ciao, ragazzi. Terzo buonamento. Nemmeno cosa pensi di Draghi? Terzo buonamento. Almeno Draghi, almeno Draghi. Dino tu che devi fare tre buonamenti. Tre buonamenti. Dai, non ti condivido la del debito. No, vabbè, ho capito, ma ti cerchiamo sempre, non ti troviamo mai. Dillo la del debito, sì. Cioè, io c'ho l'Iban, li mando lì, ma si fa tre buonamenti e risponde a tre domande. Dai, su. Va bene, allora, prendete l'Iban di Grillo, che gli faccio un po' di domandine su un po' di robe. Lo faccio io l'abbonamento. Naturalmente che non chieda una cifrona, ma, diciamo, entro cifre ragionevoli, se le chiedete, li mando... La famosa politica, disinteressata. Esatto. Ti rispondo, mi paghi a domanda. Noi abbiamo un buon rapporto. Del resto, Grillo faceva anche i comizi, facendosi pagare il biglietto, devo dire. Stava, è sempre stato avanti. Cosa dice a queste non risposte di Grillo? Ma guardi, non ho molto da dire a Grillo, perché mi pare che si sia piano piano abbastanza disinteressato alle vicende del Movimento che aveva creato, che intanto ha avuto una trasformazione, diciamo, a 360 gradi. Però, in effetti, riflettendoci, ho scoperto che il Movimento 5 Stelle è un partito coerente. In una cosa sono stati estremamente coerenti, l'aver tradito il 100% delle promesse che avevano fatto. A cosa si riferisce, in particolare? Al fatto che tu avevi un partito che nasceva, diciamo, per rompere gli schemi della politica politicante e poi ti ritrovi i peggiori politicanti, famosa scatoletta di tonno che diventa il tonno. Al fatto che loro avevano promesso di cambiare tutti i codici della politica e ci hanno, di fatto, voglio dire, la prima repubblica sarebbe impallidita. Al fatto che avevano le regole, i due mandati, eccetera, sono stati più grandi poltronari possibili e immaginabili. Al fatto che dicevano che non si sarebbero alleati con nessuno e si sono alleati con il 99% dei partiti del Parlamento, al netto di Fratelli d'Italia, che con orgoglio rivendica di essere l'unico partito che non è mai stato e non sarà mai alleato del Movimento 5 Stelle. La storia delle tassi sulla casa del Movimento 5 Stelle e del PD? È una battaglia che Fratelli d'Italia ha già lanciato per primi. L'abbiamo lanciata perché qui gira appunto questa voce, si girava la voce che il governo avesse in mente di rivedere le stime catastali delle case degli italiani, noi abbiamo subito messo in guardia il governo sul fatto che su questo avremmo fatto le barricate, inizialmente il governo ha detto che non era vero, poi ieri Mario Draghi, due giorni fa, Presidente Draghi, ha detto sì, effettivamente noi stiamo rivedendo le stime catastali delle case, ma non intendiamo far aumentare le tasse. È difficile che le due cose stiano insieme perché è inevitabile che se aumenta, come tendenzialmente aumenta per tutti il valore catastale della casa di riferimento, aumentano anche le tasse collegate a quella casa dalla successione e glielo dico perché lei ricorderà che Enrico Letta aveva proposto l'aumento della tassa di successione e quindi mi pare che Draghi anche su questa cosa si pieghi alla fine alla volontà della sinistra, l'Imu, tassi imposta di catastro, imposta di registro, tutte. E un'altra cosa che non dice nessuno e che non ha citato neanche Mario Draghi ma che a lei interessa perché lei queste battaglie le fa, è che ovviamente se io vedo rivalutato il valore catastale della mia casa si modifica il mio parametro ISEE e il parametro ISEE, il parametro di ricchezza, è quello che serve ad accedere ai servizi sociali. Quindi tu hai un momento nel quale la povertà dilaga e le persone sono sempre più in difficoltà, aumenta il valore della casa ma non è che tu hai un valore diverso e tu esci dalla graduatoria dell'asilo nido senza che sai neanche perché. Per me sarebbe una follia e noi su questo abbiamo già annunciato battaglie. Senta un po' il signor Vito da Rutigliano Bari cosa ha da dirci. Vito è un produttore di uva da tavola. Sera. Buonasera. Salve. Buonasera direttore. Buonasera. Dica Vito, lei è un po' arrabbiato con l'uva tunisina, vero? E ti credo. No, sono un produttore, un imprenditore che produce e commercializza uva da tavola. Sì. Sono molto arrabbiato perché stiamo perdendo l'identità del nostro prodotto, la tipicità del nostro prodotto perché stiamo vivendo la standardizzazione delle uve piandate in tutta Europa, specialmente in Grecia e Spagna dove hanno dei costi inferiore a noi e riescono a produrre con 20 centesimi al chilo in meno rispetto a noi. Sentiamo cosa risponde Meloni. Prego. Ma guardi, la questione è reale ed è, diciamo, ha diverse sfaccettature. C'è un tema chiaramente che è legato a un problema che va tutto italiano anche in rapporto al mercato europeo. Il signore cita Spagna, cita Grecia, per cui li siamo all'interno dei confini europei dove però ci sono tassazioni sul lavoro diverse e più attente verso gli imprenditori che chiaramente i nostri imprenditori pagano sul piano della competitività. Poi noi avremmo dalla nostra la qualità del prodotto che però viene riconosciuta con la tracciabilità il famoso made in e su questo abbiamo l'Europa che ci fa muro perché chiaramente essendo i nostri prodotti e lo sanno tutti i migliori del mondo nel momento in cui tu più rendi chiara la tracciabilità la provenienza dei prodotti e più chiaramente penalizzi gli altri per cui la famosa Unione Europea solidale su questo ha sempre fatto muro. Poi c'è un altro tema che lei accennava che è quello dell'uva tunisina per cui noi abbiamo il paradosso di avere in Italia per esempio le leggi sul caporalà contro il caporalato che è chiaramente per carità questione di civiltà combattere il caporalato però se tu mi fai le leggi contro il caporalato in Italia e poi l'Unione Europea mi importa da nazioni nelle quali non ci sono neanche lontanamente i diritti dei lavoratori o le regole ambientali o le regole sulla sicurezza del lavoro che ci sono da noi e il primo caporale diventa l'Unione Europea e lo Stato Italiano è ovvio che i nostri imprenditori non possono mai competere cioè questa roba qui se si vuole tutelare soprattutto la qualità e la genuinità del prodotto che si vende è un tema che lo Stato Italiano deve affrontare e che deve affrontare soprattutto in sede europea perché poi la grande questione è tutta lì Peroni in bocca al lupo quanto c'è ancora di campagna elettorale? Domani? C'è ancora domani anche se poi io sabato sono in Sicilia perché la Sicilia vota una settimana dopo poi ci saranno i ballottaggi dove spero che i nostri candidati arriveranno ovunque e quindi saremo ancora in partita altri 15 giorni insomma Sì ancora altri 15 giorni ma speriamo almeno di prenderci delle soddisfazioni Passam preso 15 giorni Andate a votare andate a votare andate a votare 3-4 ottobre Grazie Grazie a lei Paolo Buonasera a tutti Voi state lì non vi muovete se avete da fare dei bisognini fate Grazie a tutti